Radio Radicale, siamo con Valdospini per ricordare Silvio Berlusconi. Noi sappiamo che Valdospini è stato un importante esponente del Partito Socialista italiano negli anni 80-90, è stato ministro, sottosegretario e con lui vogliamo parlare dei rapporti tra Berlusconi e i socialisti. Negli anni 80 sappiamo che maturò un rapporto consolidato di amicizia tra Craxi e Berlusconi a partire anche dal 1986 quando vennero oscurate le televisioni di Berlusconi. Il governo corse ai ripari permettendo poi alle televisioni di Silvio Berlusconi di riuscire a trasmettere. Una polemica antica che risale anche agli anni 70 quando addirittura vennero tagliati i cavi delle televisioni che trasmettevano via cavo e cadde addirittura un governo, il governo Andreotti, dopo che il ministro delle comunicazioni Gioia, prima che ci fosse l'avvento di Berlusconi, impedì a queste televisioni di svilupparsi. Allora, che cosa ha rappresentato secondo lei Berlusconi anche per i socialisti? Indubbiamente la storia è stata in qualche modo paradossale perché Craxi si batte contro il monopolio pubblico delle televisioni per aprire uno spazio anche a quelle di Berlusconi e naturalmente pagò anche un prezzo, come dire, politico e d'immagine. Ricordiamoci che quando viene fatta la legge Mammi alcuni ministri della democrazia cristiana si dimettono dal governo e fra questi ce n'era uno particolarmente illustre, cioè l'onorevole Sergio Mattarella che oggi è presidente della Repubblica. Anche Guido Bodrato che è scomparso la scorsa settimana? Bodrato non so se era ministro ma comunque come vice segretario del partito si batte in questo senso e naturalmente Craxi ebbe il partito socialista, io non ero più vice segretario, Craxi e il partito socialista ebbe certamente un vantaggio nelle televisioni di Berlusconi però certamente fu molto attaccato quindi ebbe anche uno svantaggio dell'opinione pubblica di sinistra e quant'altro. Paradossale che quando poi Craxi cade per Contangentopoli Berlusconi riesce a proporsi come qualcosa di realmente innovatore e quindi anche di vincere le elezioni e quindi Craxi è finito, Ammamet diciamo nella sua vita è finita in esilio e invece Berlusconi ha con tutti i suoi problemi che ha avuto certamente con la guerra che gli è stata fatta ma è stato presidente del Consiglio quattro volte e ha totalizzato un record di presenze alla Presidenza del Consiglio. Potrei anche ricordare che quando nel 1994 ci sono le prime elezioni con la nuova legge maggioritaria il cosiddetto mattarellum e noi socialisti siamo da un lato presenti nel schieramento progressista per l'Unionominale con Nocchetto e dall'altro lato presentiamo una lista proporzionale. Beh, eletti alla Camera ne avevamo 16, non riuscimmo a arrivare allo sbarramento del 4% al proporzionale ma ricevevamo pur sempre 800.000 voti che non erano proprio poco e ci fu negata l'autorizzazione a costituire un gruppo e naturalmente anche dai berlusconiani. Lei sa benissimo meglio di me che oggi una deroga per costituire un gruppo non si nega nemmeno al primo che passa, sono stati costituiti gruppi altro che con 16 ma con molti meno parlamentari. Forse magari i nuovi esponenti politici non avevano così tanta esperienza da conoscere abbastanza bene i regolamenti e le consuetudine parlamentari. Insomma, anche se per esempio al Partito Radicale nel 1976 con quattro deputati venne data la deroga. Gliela diede in grau, credo. Ecco, lei dice che c'era poca esperienza, certamente nella Presidente della Camera di allora, Irene Pivetti, si può dire che c'era molta esperienza, ma prima che diventasse Ministro del Dio... Non c'era, non c'era vuole dire. Non c'era molta esperienza, era completamente nuova, ma per esempio prima che venisse fatto Ministro il Capogruppo di Forza Italia alla Camera era l'On. Cesare Previti, ho l'impressione che una certa esperienza ce l'avesse, anche se non aveva direttamente fatto parte. No, ci fu l'idea che... ma questa fu un'idea anche dalla sinistra purtroppo, che tutto sommato si dovesse impedire il rilancio, la formazione di un partito socialista. Questo giovava a Berlusconi che ci aveva preso la maggior parte dell'elettorato e questa, credo in modo mio, giovava anche a certi settori della sinistra che magari pensavano che l'elettorato socialista fosse in qualche modo da dare per perduto e non interessasse più. Credo che quell'episodio comunque non è stato un bel episodio, tra l'altro io l'ho vissuto in prima persona perché sarei stato... ero il capogruppo designato di quel gruppo. Non è stato un bel episodio di vita parlamentare perché bene o male, diciamo, si è impedito a una bella fetta di elettorato di potersi esprimere. Senta, lei ha mai assistito a incontri tra Berlusconi e Craxi? Quando ha conosciuto Berlusconi? No, a incontri tra Berlusconi e Craxi non ho assistito. Però quando Berlusconi fece le consultazioni per il suo primo governo, consultò anche una rappresentanza socialista di cui io facevo parte e naturalmente trovai un uomo che si sentiva molto forte di se stesso. Io ero ministro dell'ambiente uscente del governo Ciampi, mi permisi di spendere qualche parola sul tema dell'ambiente e in particolare sul fatto che io avevo lasciato incompiuto, ma comunque preparato una, diciamo, una razionalizzazione, un codice unico delle leggi ambientali che erano molto disperse e molto farraginose. E lui in parte l'ha presso sul serio, in parte l'ha presso sul ridere perché voleva fare un codice nuovo di tutte le leggi. parlò delle pandette che si allineavano sulla sua biblioteca che voleva assolutamente ridurre. Era in quel momento naturalmente molto sicuro di sé, ma come era nel suo carattere, anche molto cordiale e certamente non ci trattò con sufficienza perché nel suo carattere c'era un'apertura, una cordialità che credo abbia sempre mostrato. Non le parlò di Craxi mai quando lo incontravate? Non ho ricordi, non ho ricordi in questo senso, sinceramente. Quando ci fu il problema nel 1986 delle televisioni oscurate, lei ebbe modo di parlare con Craxi del suo rapporto con Berlusconi? Gli disse mai qualcosa? Gli diede mai un consiglio? Come vedeva questo rapporto lei tra Berlusconi e Craxi? Ma in quel tempo io appunto non ero più nella segreteria del partito, non ero più... Però lei era un importante esponente del partito, insomma... Certamente noi avevamo l'impressione che poi si è materializzata dal nostro punto di vista, che era un punto di vista della sinistra interna, che in qualche modo Berlusconi via via convincesse Craxi anche a cambiare atteggiamento. Mi spiego meglio. Questo vale in positivo, nel senso che, per esempio, questo l'ho vissuto quando ci riunivamo come segreteria socialista il lunedì o il martedì mattina. La mia impressione è che, dal punto di vista delle novità nelle comunicazioni, Craxi avesse nel weekend parlato con Berlusconi e quindi ci portasse anche elementi di carattere nuovo. Dal punto di vista negativo, almeno dal mio punto di vista, l'impressione era che Berlusconi avesse in qualche modo fatto cambiare in Craxi il peso dei suoi interessi. Cioè, da uomo politico che, nonostante le differenze, ma coltivava il dialogo con gli intellettuali, il dialogo con la sinistra, anche lo scontro, ma comunque il dialogo, mi sembrava che lui si fosse orientato verso l'idea che avere un background televisivo così importante come quello che Berlusconi gli assicurava rendesse meno importanti le altre cose. Quindi l'opinione pubblica, il dialogo a sinistra, il rapporto a sinistra. Ecco, questa è un'impressione che io ebbi molto evidente. Lei manifestò a Craxi questa perplessità? Diciamo, è chiaro che in quel periodo il dibattito era molto ristretto. La mia battaglia, cominciata nell'84, quando era ancora vice segretario, fu sulla questione morale, su prendere sul serio la questione morale. Personalmente davo più importanza a questo che non al rapporto con le televisioni. Anche se certamente parole di prudenza in questo campo cercai di spenderle. parole di prudenza proprio anche perché nel frattempo il Partito Socialista era fortemente presente in Rai, aveva anche il Presidente Enrico Manca, e in Rai c'era un tesoro di giornalisti socialisti che via via perdevamo. Penso a Andrea Barbato, tanto per non fare un nome, ma c'era stato un tesoro di competenze sociali. Ma Barbato non era un grande amico di Craxi? No, appunto che via via perdevamo. Cioè erano persone che erano entrate in area socialista, che però proprio per questo rapporto Craxi-Berlusconi si spostavano invece vicino al Partito Comunista. Ma perché? Che cosa vedevano in questo rapporto tra Craxi e Berlusconi? Una qualcosa di totalmente negativo? Qual era l'aspetto negativo di questo rapporto, secondo lei? Beh, ora naturalmente bisogna vedere come l'avevano vissuto loro. Il rapporto era una rinuncia, diciamo così, all'idea di una televisione pubblica, che oggi naturalmente può sembrare in qualche modo demodè, ma quel tempo era molto radicata. Teniamo conto che poi c'è stata una netta differenza. La televisione pubblica della Prima Repubblica, sia pure con tutte le sue difetti, formava l'opinione pubblica nel ricordo delle culture dei vari partiti, nella storia della Repubblica e così via. Tutti sappiamo che poi le televisioni di Berlusconi puntarono più su un intrattenimento, un entertainment, che forse è stata una delle cause anche della mancata memoria storica e di una certa disaffezione, diciamo, verso la politica, che poi ha preso l'opinione pubblica. Certamente Craxi aveva visto giusto, nel senso che il monopolio non era più pensabile, e che bisognava evidentemente aprire anche a un pluralismo. Però sul momento, ecco, diciamo, e poi anche precedentemente, bisogna pensare che la televisione pubblica educava gli italiani in un altro modo, in un'altra direttrice, di quello che poi ha fatto la televisione privata. Senta, ci sono stati tanti socialisti che hanno lavorato con Mediaset, con Berlusconi, anche tanti comuni... Cioè, io so che, insomma, la figlia di Berlinguer lavora per... Una delle figlie di Berlinguer lavora per Mediaset. Insomma, ci sono stati... Mentana, credo fosse un giovane socialista, è andata a lavorare... Anche tanti giornalisti socialisti, di origine socialista, sono andati a lavorare a Mediaset. Sì, no, da quel punto di vista, io non do un giudizio... Ho detto prima che il monopolio pubblico, ovviamente, non poteva reggere. Poi Berlusconi, personalmente, è stato sempre aperto e tollerante nei confronti delle altre esperienze. Certamente, in questo fatto che Berlusconi ci portò via la maggior parte del nostro elettorato, dicevo, nel 94, tentammo di difenderci, ma fumo, di tutto sommato, ridotti a una percentuale molto ridotta e giocò anche il fatto che con Tangentopoli ci fu una specie di caccia al socialista, una specie di amnazio memorie che convinse molti socialisti ad andare da quella paiva. Ecco, lei ha utilizzato questo termine, ha detto Berlusconi ci portò via... Allora, chi è che compie la scelta? L'elettore o Berlusconi? Nel senso che tanti socialisti, soprattutto dell'area autonomista, hanno lasciato il PSI, hanno costituito il nuovo PSI, sono andati nel centro-destra, ci sono stati esponenti come De Michelis che hanno fatto questa scelta, la figlia di Craxi. Allora, c'era una ragione particolare per la quale loro avevano delle fondate ragioni per andare con Berlusconi, secondo lei? Io ho fatto una scelta diversa, cioè, nonostante che possa aver avuto le mie delusioni, le mie amarezze, ho sempre pensato che alla fine il posto di un socialista fosse una sinistra, ovviamente una sinistra riformista, nel mio caso rosselliana, socialista liberale. E pensiamo che, nonostante che io abbia sempre visto con favore l'evoluzione di Gianfranco Fini e di altri, insomma, quando Berlusconi scende in campo nel 94, c'è ancora un'alleanza nazionale con tanto di fiamma, con tanto di fiamma tricolore. Quindi non vedo perché un rosselliano dovesse essere da quelle parti. E certamente la scelta che ha motivato molti è stata intanto appunto una scelta che Berlusconi ha lasciato un certo spazio, però, un certo spazio alle persone, però con un'interruzione di continuità, perché Berlusconi fece questo miracolo, non estendo, malgrado che fosse stato profondamente interconnesso con le vicende di Craxi, se vogliamo, in parte minore, ma anche con Andreotti e Forlani, nonostante che fosse stato profondamente interconnesso, si presenta agli italiani come un rinnovamento totale nei confronti della politica. Credo di ricordare, se ricordo bene, che nell'ultima scena che Cossiga fa a Hammamet con Craxi scherzarono su questo fatto, che in fondo Berlusconi si lamentava molto, ma tutto sommato della vicenda ne è riuscito abbastanza bene, a differenza appunto di Craxi, che si trovava a Hammamet in esilio. Senta, un'ultima cosa. Lei prima mi ha fatto un accenno alla fiamma alla destra. Allora, Berlusconi però ha cercato, secondo lei, di mantenere l'eredità del vecchio pentapartito di cui lei faceva parte? Cioè, lui si è, diciamo, fatto carico di recuperare la tradizione dei partiti della maggioranza che ruotava intorno alla democrazia cristiana, di cui lei stesso faceva parte. Allora, lei pensa che questa cosa a Berlusconi si è riuscita male? No, no, è riuscita abbastanza bene. Se si pensa alle regioni tradizionalmente democristiane, Veneto, Lombardia, naturalmente lì fu molto importante la Lega nella collezione. No, no, da questo punto di vista li riuscì bene, ma non sarebbe bastato proporsi come l'erede del pentapartito. Di mezzo c'era stato il referendum, c'era stata una polemica antipartito durissima. E quindi fece questo, ma fece anche l'altra operazione di riuscirsi a portare dietro quello che sul centro-destra era, diciamo, di antipolitica o di populismo antilittero. Ho capito. Lei, oggi, ripensando alla Seconda Repubblica, pensa che ai socialisti sia convenuto, diciamo, stringere un'alleanza con quella che era la ex-sinistra ideologica del ex-PC, PDS, DS. Questo ha portato fortuna ai socialisti? Li ha rafforzati o li ha indeboliti? Nel mio caso io non ho pensato alla fortuna, ho pensato a un dovere etico-politico. Cioè a dire, sarebbe stato, io avessi fatto una scelta sul centro-destra, sarebbe stata, davvero sì, vista come una scelta di convenienza. Quindi io, nonostante tutto, ho fatto questo, ma ho fatto di più. Nella vicenda post-comunista c'è stato un bivio a un certo punto. Cioè se riuscire a trasformarsi in un moderno partito social-democratico laborista, oppure mantenendo il vecchio apparato e il vecchio gruppo dirigente, però tentare la strada del, diciamo, del riemergere come partito democratico. A mio parere sarebbe stata certamente più impegnativa per la tradizione post-comunista la prima, però avrebbe, quella di un partito moderno social-democratico laborista, però avrebbe mantenuto quell'impiantamento, cioè a dire quel radicamento, nei territori del Paese che oggi, si lamenta che oggi c'è un distacco evidentemente molto forte. A mio parere, nei guai che ha oggi il Partito Democratico, una delle radici è in questa scelta sbagliata che hanno fatto i post-comunisti. Quindi, dal mio punto di vista, avere proposto un'altra scelta, credo che sia stato un elemento di coerenza, è stata sconfitta, però credo che sia una scelta che sia stata giusta cercare di proporre. Poi, per quanto riguarda il centro-destra attuale, o la situazione attuale, certamente quando, se si vede che la dialettica è una dialettica Meloni-Schlein, beh, è molto diversa dal 94 e dal periodo di Berlusconi. Da questo punto di vista, comunque, la si giudichi, la società italiana si è molto evoluta e molto cambiata. Però, in questa situazione, Berlusconi recitava un ruolo che, per certi aspetti, è stato positivo. Cioè, in questa maggioranza di centro-destra, rappresentava il ruolo del radicamento al Partito Popolare Europeo e all'Europa. Il che credo che sia stato di beneficio per tutta la maggioranza di centro-destra, ma anche di beneficio per il sistema politico italiano. Molti dicono che oggi la sua scomparsa lascia un vuoto da questo punto di vista e quindi sarà il presente e il futuro che ci dirà come questo vuoto sarà riempito. In ultima analisi, ritiene che Berlusconi abbia fatto bene alla politica italiana? Ma, che devo dire, io appartengo al periodo precedente. Però ha vissuto anche quello successivo, visto che era capogruppo anche nel primo governo della Seconda Repubblica. Ma, diciamo, io non posso trattenere una nostalgia per quella politica fatta di nottate nelle sezioni. Io non fumavo, ma di questa acre fumo di tabacco e di sigarette per questo rapporto continuativo che era fisico necessario e che in qualche modo le televisioni ti hanno portato via. Perché le televisioni, diciamo, giochi con una grande quantità di persone che ti aspetta e magari con una dichiarazione di un minuto o due minuti. Noi ci guadagnavamo gli speroni con relazioni di 40 minuti, magari davanti a 40-50 persone. Però era un rapporto personale che in qualche modo vedo con nostalgia. Quindi, da persona razionale, so benissimo che tutto questo è cambiato, ma un po' di nostalgia. Tenga conto che io sono stato dai 16 ai 30 anni, per 14 anni nel partito socialista pre-craxiano, che magari era più modesto delle ambizioni, ma dal punto di vista umano era veramente qualcosa di bello e da vivere. Però non portava il Presidente, non arrivava a Palazzo Chigi. Non ce lo saremmo nemmeno sognato. E io devo dire che la Vice Secretaria di Miglioranza ho dato tutto il mio contributo perché Craxi potesse arrivare a Palazzo Chigi. La mia idea era quella, in questo modo, anche di mobilitare, di creare una democrazia e delle alternanze. Nel mio ultimo libro, sul colle più alto, ho riportato quanto mi disse Pertini dopo i funerali di Berlinguer. Pertini era molto contento del fatto che, da Presidente della Repubblica, aveva prima portato un laico a Palazzo Chigi, nella persona di Giovanni Spadolini, e non se ne vedeva uno dai tempi di Ferruccio Parri, caduto nel dicembre 1945, era molto fiero di aver portato il primo socialista della storia, di aver dato l'incarico al primo socialista della storia, a Palazzo Chigi, che era Bettino Craxi, e però diceva che avrei voluto concludere il settennato vedendo di portare anche il PC al Governo, di legittimarlo in questo modo di aprire la strada a una democrazia delle alternative. Sento, mi disse in conclusione di questo colloquio, che con la morte di Berlinguer ho perso l'interlocutore. Ecco, il Partito Comunista rimase preda, diciamo, delle sue contraddizioni per parecchio tempo, fino alla caduta del muro di Berlino, e questo è stato un grande ritardo per la democrazia italiana. Bene, la ringrazio, ringrazio Valdospini per questa riflessione che ha fatto anche su Silvio Berlusconi il giorno dopo la sua scomparsa. Grazie.